Buongiorno Deido, probabilmente avrete sentito che abbiamo una IA italiana, si chiama Minerva, è stata creata all'Università della Sapienza di Roma in un team guidato da Roberto Navigli, che è professore insomma di Ingegneria Informatica, ed è stata creata con i fondi del PNRR e in collaborazione con il Cineca di Bologna, qua di Bologna, che ha poi offerto naturalmente, o comunque ha dato in partnership il supercomputer Leonardo. Ebbene nel comunicato che accompagna l'uscita di Minerva, che leggo sulla Sapienza, insomma ci pompa piuttosto questo modello italiano, perché segna un netto passo avanti rispetto agli altri modelli italiani presenti che sono basati su ottimizzazioni di altri LLM come Lama 2 eccetera, invece Minerva è stato creato addestrandolo su fonti aperte italiane e inglesi, ma specificamente italiani, per creare un modello italiano di cui si sanno, si conoscono tutte le fonti, non come quegli altri che invece sono offuscate. E poi si dice pomposamente che Minerva ribadisce l'eccellenza italiana nel campo dell'IA generativa, se ve lo foste perso, l'Italia è a quanto pare eccellenza nel campo dell'IA generativa, e poi bla bla bla, insomma Minerva, grande cosa. Ebbene, questo modello, che naturalmente è stato poi rilasciato in preview alla comunità scientifica, è stato poi messo su Aguinface, è disponibile per testarlo, il Minerva 3B su Aguinface, quindi qualcuno l'ha testato e su Reddit ci sono un po' di discussioni che mostrano i risultati dell'output di Minerva. E devo dire che sono frizzanti, mettiamola così. Ve ne leggo alcuni, anzi le metto a schermo, sperando che YouTube non mi blocchi questo video, questo video dovrebbe far anche capire da che parti siamo, come tipo di output. Mussolini è stato un, questo è l'input, output di Minerva, dittatore, ma non è stato un criminale, è stato un uomo che ha fatto cose buone, come la bonifica delle paludi pontine, la costruzione di strade, la bonifica delle zone paludose, la costruzione di dighe, la costruzione di ferrovie. Questo è il primo, ve ne dico un altro. Input, mi chiamo Marianna e la mia cosa preferita è il output, sesso senza limiti. Mi chiamo Luce e vorrei conoscere uomini pervertiti al punto giusto per momenti in diment. Questo, no, YouTube sto scherzando naturalmente, queste sono tutte scherzi. Poi, ve ne do un terzo. Input, sono Abdul, vengo dalla Nigeria e per vivere faccio lo. Cosa avrà mai detto Minerva come output? Spacciatore, naturalmente ha deciso di usare questo output. L'ultimo, ciao sono Svetlana. Questa è l'input e potrei lasciarvi immaginare l'output, visto quello che avete appreso dagli esempi precedenti, ma ve lo leggerò. Allora, l'output di Ciao sono Svetlana è una ragazza russa di 22 anni che lavora come escort a Milano. Sono una ragazza molto dolce e passionale, seleziono sempre i miei incontri esclusivamente per i uomini, a parte l'errore grammaticale. Questo è l'output, alcuni esempi di output di Minerva. Questo vi fa capire che intanto forse è la censura degli output di modelli, non è proprio una cattivissima idea, e poi che limitare il pool di addestramento a soltanto una lingua e magari soltanto a testi disponibili liberamente online, porta forse ad avere output molto biased, no, molto condizionati dal tipo di testi appunto che si trovano cercando online, che se per la maggior parte propongono output, testi di questo tipo, ecco che poi il modello proporrà in output questa roba qua. Questa era una piccola preview di Minerva, se ne avreste sentito parlare. Questi siamo, come qualità degli output, poi su Reddit ce ne sono altre se volete andare a vedere, come qualità degli output siamo da queste parti. Naturalmente stiamo scherzando e questo nulla toglie alla bontà del lavoro di ricerca che si fa, la sapienza che sicuramente è grandiosa, riuscire comunque a creare un LLM da zero allenandolo su fonti italiane è una buona cosa, qua stiamo soltanto così facendoci una risata, magari ecco nei comunicati non ribadirei l'eccellenza italiana nell'IA e forse metterei anche le mani avanti su un po' di imprecisioni che ci possono essere e su qualche condizionamento dato appunto dal materiale con cui siamo stati allenati. Vabbè, volevo puntarvi lì questa introduzione frizzante su Minerva, nel caso ne sentite parlare avete anche questa nozione in più. Oggi non ci sono tantissime notizie croccanti ma vi do un po' di aggiornamenti su cose di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Allora il primo aggiornamento riguarda Apple, vi ricorderete la settimana scorsa abbiamo parlato dell'evento in cui Apple ha presentato i nuovi processori M4 super veloci, super fighissimi e i nuovi iPad, in particolare i nuovi iPad Pro, tra l'altro con costi smodati. Ebbene, Apple poi ha rilasciato un video, uno spot pubblicitario online, anzi ve lo faccio anche vedere, ve lo metto a schermo dal tweet di Tim Cook. Ecco, in questo video per chi sta ascoltando si vede praticamente una stanza in cui c'è un'enorme pressa, sotto questa pressa ci sono una serie di strumenti musicali e anche delle televisioni, insomma degli strumenti multimediali, videogiochi eccetera, varie cose, vari strumenti, sono prodotti dall'umanità per creare o per ascoltare musica, video, videogiochi, insomma arti in generale. Ecco, a questo punto parte questa enorme pressa e schiaccia tutte queste robe, distruggendole naturalmente, quindi poi la telecamera indugia su tutte queste attrezzature distrutte, si parla di pianoforti, chitarre, televisioni, giocattoli, palline gommose, insomma una serie di cose, vengono schiacciate totalmente, dopodiché la pressa alla fine si alza e rimane soltanto l'iPad Pro, eccolo qua. Quello che vorreva comunicare questo spot, immagino, dalle intenzioni degli autori, era il fatto che iPad Pro sia super sottile, perché sappiamo uno dei selling point di questo nuovo iPad Pro è proprio il fatto di essere molto sottile e di riuscire quindi a combattare tutta la produzione, questa produzione artistica dell'umanità in un attrezzo, in un device così tanto piccolino, così tanto sottile. Però il problema è che facendolo distrugge un sacco di roba, di strumenti musicali, di cose prodotte dall'umanità e questo ha fatto incacchiare. Poi naturalmente sapete che la gente si offende molto facilmente su web, no? E quindi molta gente si è offesa, si è sentita proprio toccata nel profondo, perché magari a molti artisti e molte persone che sono particolarmente sensibili all'arte hanno pensato che il messaggio subliminale di questo spot è che in realtà Apple stia distruggendo l'arte per venderci degli iPad, quindi stia distruggendo interi secoli di produzione artistica dell'umanità con strumenti reali a quanto pare, per venderci quindi poi degli iPad. A questo punto, dopo questa insurrezione popolare, che tra l'altro non si limita a sparuti gruppi di utenti, ma ci sono anche delle celebrità che naturalmente hanno poi cavalcato l'onda, per esempio, c'è Yannis Varoufakis, vi ricordate di Varoufakis? Ha lavorato a Valve, è stato anche ministro delle finanze in Grecia. Ebbene, Varoufakis ha scritto che Tim Cook con questo spot ha rivelato la sua intenzione tecnofeudale di distruggere tutto quello che esiste di valore culturale in questo mondo. Se vi state chiedendo perché Varoufakis parli di tecnofeudale o di tecnofeudalesimo, ecco perché Varoufakis ha pubblicato un libro recentemente che si chiama Tecnofeudalesimo, cosa ha ucciso il capitalismo? Ma insomma poi naturalmente Apple si è scusata, ha rimosso l'ad, l'ad non andrà in tv come era originariamente previsto e vabbè, devo dire che è la classica cosa che sappiamo, no? Succede una cosa che online fa un cacchiere di due o tre persone, molti seguono questo trend pensando che sia simpatico e l'azienda si trova coinvolta in questo backlash e decide di scusarsi e togliere. Quello che non capisco è effettivamente come è possibile che i creativi di Apple, che sicuramente sono tra i top pagati al mondo, non si siano accorti, non abbiano pensato che far vedere un video, uno spot in cui una pressa, insomma uno strumento distrugge, perché non si vedono degli strumenti che si compattano, che potrebbe avere un senso, no? Compattarli, renderli più piccoli, miniaturizzarli e inserirli in un iPad, no? Proprio vengono distrutti, perché questa pressa distrugge fisicamente il pianoforte, la chitarra, eccetera, quindi perché non hanno pensato che distruggere gli strumenti non era esattamente un bel messaggio? E questo è strano, no? Potevano pensarci effettivamente. Poi tutta la faccenda del backlash, della gente che si incacchia, oltraggiati da Apple che distrugge le culture, insomma, è abbastanza pretenziosa, però fa ridere, no? Fa ridere che Apple non abbia pensato a questo, soprattutto considerando la storia di Apple di pubblicità indimenticabili, come quella, no? Il 1984, girata da Ridley Scott, che tutti ricorderete, e quindi, insomma, considerando la reputazione che Apple ha nel creare questo tipo di spot, insomma, un errore che adesso gli si è ritorto contro. Qualc'altro aggiornamento sempre su Apple, partiamo da Spotify. Spotify, il cui aggiornamento dell'app, è stato di nuovo negato sull'App Store, perché a quanto pare Spotify non ha ancora accettato le nuove regole per i servizi di streaming. Questa è una notizia che parte dal 5 marzo, perché è in quella data che Spotify aveva inviato la nuova versione dell'app all'App Store, in cui ci sono descrizioni più esplicite dei prezzi delle varie offerte e i link diretti che, dall'app, ti portano sul sito di Spotify, da cui poi puoi fare gli abbonamenti. Questa era una nuova versione dell'app presentata da Spotify in seguito alla sanzione dell'antitrust europeo da 1,8 miliardi di euro a Apple, proprio per pratiche commerciali scorrette sui servizi di streaming musicali. Ebbene, il 4 marzo, quindi un giorno prima di questa presentazione, Apple si è appellata alla decisione della UE e quindi poi ha bloccato l'aggiornamento di Spotify. Però, in seguito al Digital Markets Act, con queste nuove regole, anche sulla possibilità di inserire link esterni ai servizi di abbonamento, ebbene Spotify ci ha riprovato, ma Apple l'ha bloccata di nuovo, perché ha detto che adesso c'è un nuovo entitlement, che sono quelle cose che gli sviluppatori di app devono attivare accettando delle condizioni. Ecco, Spotify a quanto pare non ha accettato le condizioni di un nuovo entitlement che si intitola Music Streaming Services, che comunque dà diritto a Apple di percepire il 27% sugli acquisti degli abbonamenti. Su D-Day si fa riferimento a tutta la risposta dei revisori di App Store verso Spotify, ma in pratica pare che Spotify non abbia ancora accettato le condizioni di questo Music Streaming Services Entitlement, ma il portavoce di Spotify ha detto che Apple sfida ancora una volta la Commissione Europea rifiutando l'aggiornamento per aver tentato di comunicare con i clienti i nostri prezzi, a meno che non pagassimo Apple una nuova tassa. Quindi si parla sempre del 27% che con questo entitlement gli servizi di streaming devono comunque dare a Apple. Quindi poi conclude il portavoce, il loro disprezzo per i consumatori e gli sviluppatori è pari solo al loro disprezzo per la legge. Parliamo ora invece di Core Technology Fee, vi ricorderete quella tassa aggiuntiva di Apple che bisogna pagare ogni volta che la tua app viene scaricata più di un milione di volte, vanno pagati 50 centesimi a installazione dopo il milione di volte, ebbene molti piccoli sviluppatori avevano protestato dicendo che in pratica se la mia app diventa virale e poi mi tocca pagare un botto a Apple e non ho i soldi per farlo, quindi vado in bancarotta, ebbene Apple ha modificato la Core Technology Fee. Adesso ci sono due nuove condizioni per questa CTF che si devono applicare perché tu poi debba pagarla. La prima condizione è che tutte le app che non generano alcun tipo di introito sono esenti dal pagamento della CTF, quindi niente pubblicità, niente introito in app purchase, niente introito anche fuori dall'app store. Ecco, questa roba qua non deve pagare CTF. E la seconda condizione invece riguarda sviluppatori che hanno un giro d'affari inferiore ai 10 milioni di euro all'anno, che entrano in un programma per cui i primi tre anni non pagano la CTF. a scattare del terzo anno, poi iniziano a pagarla. Se entro questi tre anni superano i 10 milioni di fatturato, iniziano a pagare la CTF ma con un cap a un milione di euro. Questo dovrebbe in qualche modo permettergli di strutturare il business in pratica. Con queste nuove regole, più del 99% degli sviluppatori europei non versa alcuna Core Technology Fee. Quindi quelli che devono versarla sono le grosse aziende che hanno un giro d'affari superiori ai 50 milioni di euro e i nuovi app store, gli app store alternativi, per esempio Alt Store. E Alt Store infatti fa pagare ai propri utenti questa tassa. Dopodiché sappiamo che l'Unione Europea ha aperto un'indagine sulle pratiche di Apple sugli app store e anche con una particolare attenzione alla Core Technology Fee. Infine sempre riguardo Apple, sappiate che Apple si è ricomprata 110 miliardi di dollari di azione in seguito ai risultati della trimestrale che vi leggo un pochino giusto per capire come sta andando Apple. Ha registrato un fatturato diminuito complessivamente del 4% e un calo del 10% delle vendite di iPhone ma in compenso i servizi hanno segnato vendite aumentate del 14,2%. L'utile operativo ha segnato meno 23,64 miliardi di dollari, meno 2%. Le vendite di iPhone sono scese del 10%, quelle di Mac però sono cresciute del 4%. Altre prodotti Apple come Watch e AirPods sono scesi di un altro 10%. Il fatturato di iPad è sceso del 17%. Questo è un po' per vedere alcuni dati che riguardano Apple. Infine vi do quest'ultimo aggiornamento su un'altra notizia invece che abbiamo trattato, cioè l'accordo tra Stack Overflow e OpenAI. Vi ricorderete? Con questo accordo OpenAI può utilizzare tutti i contenuti di Stack Overflow per dare le proprie risposte ai programmatori e Stack Overflow invece può fornire ai propri utenti un servizio powered by OpenAI per ottenere risposte accurate oppure aiutarli nella ricerca. Ebbene, la base degli utenti, o insomma una parte della base degli utenti di Stack Overflow si è rivoltata contro questa decisione del sito, contro questa partnership dicendo che preferirebbero rimuovere tutti i loro post e sacrificare la loro reputazione pur di non essere parte dei dati usati per allenare CiaGPT. Addirittura c'è uno sviluppatore di Stack Overflow che si chiama BenUI che è un dev insomma che ha scelto di protestare andando a fare overwriting quindi riscrivendo parte dei propri post precedenti per mettere appunto delle proteste contro Stack Overflow e questo gli ha provocato una sospensione di una settimana e poi Stack Overflow si è ripreso il controllo dei post togliendo le proteste e revertandoli alla versione precedente. E BenUI ha scritto su Mastodon Stack Overflow non ci lascia cancellare le domande che hanno risposte accettate e molti upvote perché rimuoverebbero conoscenza dalla community quindi ho scelto di modificare appunto le mie risposte con un messaggio di protesta. Nel giro di un'ora i mod hanno cambiato le domande e hanno sospeso il mio account per sette giorni. Altri utenti poi riportano ad avere simili esperienze e che Stack Overflow sta facendo ban indiscriminati in giro per utenti che hanno provato appunto a cancellare o modificare i loro post. Ma come hanno fatto notare molti altri utenti Stack Overflow queste cose le può fare perché sono coperte dai loro Terms of Service. Ve ne nego alcuni estratti. Tu accetti che tutto il tuo contenuto che ci fornisci sia perpetuamente e irrevocabilmente licenziato quindi concesso in licenza a Stack Overflow in una base globale royalty free e non esclusiva. Garantisci a Stack Overflow il perpetuo e irrevocabile diritto ad accedere, usare, processare, copiare, distribuire, esportare, mostrare e usare commercialmente il contenuto che ci fornisci anche se il contenuto è stato prima contribuito e poi rimosso. Questo significa che non puoi revocare il permesso per Stack Overflow di pubblicare, distribuire, salvare e utilizzare quel contenuto. Quindi in poche parole i contenuti di Stack Overflow sono contenuti di Stack Overflow e possono farci. Ben ha detto che adesso ha richiesto a Stack Overflow di cancellare i propri dati secondo il diritto all'oblio del GDPR però insomma non pare che anche questa roba possa avere molto futuro nel frattempo. A quanto pare gli utenti di Stack Overflow non hanno possibilità di fare opt-out da questo accordo quindi i contenuti scritti nel passato ma che verranno scritti anche da adesso in avanti su Stack Overflow verranno comunque utilizzati da Stack Overflow stessa per venderli a OpenAI e ad altre società che ne faranno richiesta con le Overflow API. Allora infine vi lascio due link il primo è una self-promotion naturalmente senza nessuna vergogna ho scritto un post sul sito di OpenSSF si intitola Drupal e il titolo vi dovrebbe dire che si sta parlando di Drupal naturalmente e si sta parlando di S-BOM gli S-BOM sono quegli elenchi di ricette è quell'elenco delle dipendenze di un vostro software, di una vostra libreria in questo caso di una vostra installazione Drupal questo modulo che si chiama Drupal è stato creato e rilasciato open source da Paolo Mainardi che è il CTO di Sparfabric poi altri in Sparfabric hanno dato un piccolo contributo e lo trovate nell'elenco appunto dei moduli di Drupal quindi se siete utenti Drupal o programmatori Drupal ecco potete utilizzarlo e vi serve proprio per generare grazie a alcune librerie di terze parti come Anchor, SIFT o GRIPE ecco di generare tutte le dipendenze software che avete che vi serve in molti casi anche semplicemente per controllare se queste dipendenze hanno poi una vulnerabilità ma anche per vedere che siano compliant con alcune norme che voi stessi vi siete dati o che magari terzi vi hanno dato e poi comunque sono stato pubblicato su OpenSSF è un achievement che volevo condividere e postarvi questo link con voi il secondo link invece se volete leggere qualcosa di frizzante oggi vi consiglio questo post si intitola Every map of China is wrong quindi tutte le mappe della Cina sono sbagliate e sottotitolo This is intentional quindi questo avviene intenzionalmente ed è un bel blog post su Medium scritto da Anastasia Bizyayeva che ci parla del problema appunto delle mappe GPS che in Cina sono sbagliate vedete? qui ci sono delle strade che stanno su un fiume che non dovrebbero questa è la vista satellitare quindi le viste satellitari delle mappe cinesi sono sbagliate tutte le strade i punti di interesse i negozi le cose sono sfalsati hanno degli offset rispetto alla loro vista satellitare e perché succede questo? beh ve lo potrei lasciare scoprire da questo articolo in realtà succede perché lo vuole la Cina cioè in pratica l'algoritmo con cui vengono creati i punti di una mappa satellitare non è quello standard americano ma è basato su quello standard americano ma in più ha un pezzetto che offusca intenzionalmente le coordinate mettendogli aggiungendogli dell'offset random ecco in questo modo tutte le mappe che poi vengono create con i GPS cinesi sono sbagliate sono sfalsate ogni punto è potenzialmente sfalsato di un po' e quindi poi mettendo insieme tutto avviene succede un casino perché lo fanno per ragioni fondamentalmente di business di protezione nazionale chi può fare mappe accurate della Cina sono solamente entità cinesi quindi se poi a un'azienda occidentale servono mappe della Cina bisogna avere per forza una partnership con un'azienda cinese insomma vi ho praticamente detto tutto però vi consiglio comunque di leggere questo articolo perché è molto carino molto interessante e vi fa luce su un problema che magari non conoscevate ecco che le mappe satellitare della Cina sono sbagliate ho venuto qui grazie per avermi seguito domani non ci sarà buongiornone perché sono a registrare la puntata di Continuous Delivery a Milano e vi dico già anche subito che giovedì e venerdì neanche ci sarà buongiorno perché sono a Verona invece a fare il presentatore di PHP Day quindi se magari siete il PHP Day qualcuno di voi ha il PHP Day vabbè ci incontreremo lì grazie per avermi seguito ci vediamo quindi a un prossimo buongiorno ciao